Ricordi cosa dissi la prima volta che ci incontrammo? È la giustizia per cui tu sei venuta a parlarmi ed è la giustizia quella per cui io lavoro. La giustizia è giusta e basta. Se adesso ti toglie qualcosa, in futuro te la renderà cogli interessi. Siamo già in tanti. In tanti, ma non abbastanza. Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Ma la paura resta. Tu non hai paura. Non hai paura di morire. L'ho detto tante volte. Io non ho paura. Se avessi paura, morirei ogni giorno. Se dovrò morire, morirò. Ma saprò di aver fatto qualcosa di buono per me, per il mio paese, per i miei figli e anche per te. Non so se riesco a non aver paura io. Quando ti viene da pensare così, guarda il passato. Ricordati di tutti gli altri che hanno lottato come tu lotti oggi. Ricordati che lotti per... per... per ancora una volta la giustizia. Tanti non ce l'hanno fatto. È vero. In tanti ci hanno lasciati. Alcuni li conoscevano. Rocco Chinnice. Sì. E Ninnica Sarà. Roberto Antiochia. Peppini Impastato. La Famiglia Asta. Pier Santi Mattarella. Giuseppe Fava. Rosario Livatino. Nina Agostino e Iria Pestelluccia. Carlo Alberto della Chiesa. Alberto Varone. Giovanni Spampinato. Boris Giulia. Cesare Terranova. Lenny Mancuso. Bertano Campiero. Marcello Di Levrano. Io e a Torre. Rosario Di Salvo. Gaeta Alocosca. Andre Varoia. Emanuele Basile. Cosimo Cristina. Salvatore Carnevale. L'acido Cristina. Emanuele Notabartolo. Matteo Montano. Andy Walter Cosina. Giovanni Falcone. Paolo Borsellino. Rita Adria. Rita Adria.